Ciao a tutti ragazzi! Come vedete sono sulla demo di Happy Wheels e adesso giocherò a questo gioco per la prima volta perché ho sentito che è molto popolare Ok, sì Ah no, 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 vai Ok, ce la faremo Vai, 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 vai Ragazzi No, no, no Vabbè Vai, vai Porca Che è fatto? Cambiamo livello ragazzi Cambiamo livello Questo qua, questo, questo, questo qui Vediamo com'è Tendiamo il caricamento Oh Oh, è sempre molto divertente E Forza Ma ci Oh Figo Mamma mia Fighissimo Vai Bisogna andare avanti, ok Non so cosa sia Ok, andiamo L'ho già visto abbastanza Ragazzi Che cavolo vuole questo Ok, è senza gambe Ed è ancora vivo Ok, questo qua muore Headshot 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 con la mano ragazzi Ok, andiamo Abbiamo già visto abbastanza Oddio Ok, questo qua è morto Ah, in pancia ragazzi Che schifo Andiamo Andiamo ragazzi Andiamo E basta Mamma mia Vai, vai avanti Guardate che macchia che c'è sul muro È piccato Vai Accesso negato Ma vuoi Ok, accesso garantito Ragazzi Si apre la porta Si apre la porta Vai di là No Vai di là Come cavolo Guardatevi Si Vai di qua Bravo Entra Ah Wow Bello questo livello Eh ragazzi Get a boost Extreme Ok, giochiamo Oddio No, io voglio sempre questo Il mio personaggio preferito Mi dispiace Ragazzi Oddio Ragazzi Non funziona Vuoi? Vuoi? Si Sta scivolando Ragazzi Non so i comandi Non ci ho mai giocato Si No No Dai Non so i comandi No No Io voglio uscire Actics Menù Facciamo questo Play Questo qui Adesso E si gioca Dai Vai avanti Non so i comandi Come feci Come feci Oh Maao Maao No Necio No 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 figo questo gioco non ho capito se questo qua è un monopatio oppure dai muovi le gambe su e giù fammi passare per fuori veloce che io non ho tempo da perdere ci siamo liberati della ruota maledetta guardate cosa c'è vai vai ragazzi è divertente questo livello ok fammi tornare in superficie si libertà aiuto ragazzi è ancora vivo ragazzi è ancora vivo ragazzi è ancora vivo guardate gli manco la gamba ok qua sono morto to oh dio ragazzi va bene ragazzi anche per questo video è tutto vi lascio qui con la con l'off pricellamento da 2000 lasciate anche qualche commentino ciao ragazzi a me ho fatto la stagione di grande o 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 ho fatto la stagione di grande